Ti dispiace Don Mario, ma io ho deciso che a Valerio ce lo mando sui treni delle comuniste. Ma scusa, ma va bene, ma tu spiegami, spiegami, io mando dove me la metto, che siamo già dicendo. Non è possibile Don Mario, io ho parlato con le donne dell'Udi, sono madri pure loro, dicono che lo mandano in Emilia, no, no, non gli tagliano i diti. Non c'è mai più certo? Ma se poi questo bambino ci ruba? Ricorda che tu madre ne vuole bene, Valerio!